Il 23 e il 25 febbraio 2017 a Foligno e a Perugia si è svolto il convegno internazionale di studi su Federico Frenzi e il quadrilegio nel sesto centenario della morte, con l'alto riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica. Il 15 ottobre 2021, ore 16, viene presentato in Palazzo Trinci, il Foligno, il volume che raccoglie i contributi dei 28 studiosi. Presentano gli atti del convegno il professor Marco Primà di Università La Sapienza di Roma, la professoressa Cristina Moro dell'Università di Pisa, il teologo dottor Fausto Sbaffoni, presiede Antonio Cocolicchio, triore provinciale della provincia romana di Santa Caterina da Siena. Coordinano l'evento i professori Elena Laureti e Daniele Piccini, curatore degli atti editi nel 2020 in Ravenna, longo editore nella prestigiosa collana di testi, studi medievali e rinascimentali diretta da Johannes Bartuschat e Stefano Prandi. Vi aspettiamo 15 ottobre 2021, ore 16, presso il Palazzo Trinci di Foligno.